Le assunzioni che noi prevediamo di fare prima dell'inizio della stagione estiva sono 79. In particolare 55 riguarda operai specializzati di officina, perché la scelta aziendale è stata quella di riportare tutte le manutenzioni all'interno della società. Diciamo che questo primo esperimento che abbiamo fatto ci ha dato già dati molto significativi. Abbiamo abbattuto il 33% i fermi tecnici. Purtroppo uno dei punti critici nostri riguarda la vetustà media dei veicoli, che oggi è 12,8 anni, quindi è notevolmente alta. Abbiamo predisposto un piano con la regione Abruzzo per l'acquisto di 206 autobus nel giro di due anni, 2018-2019. Oggi il parco nostro ammonta 865 autobus, quindi è una iniezione notevole. La sostituzione di mezzi obsoleti abbastanza estesa, fatto sta che ridurre la vetustà media a 9,7 anni farà cambiare la situazione aziendale. Un'altra assunzione che facciamo è quella di rimpiazzare il personale viaggiante attraverso 20 assunzioni. Queste saranno immediate perché attingiamo personale dalla graduatoria che sono oramai... Con queste 20 assunzioni la graduatoria del concorso precedente va a esaurimento. Quindi c'è da anche programmare un nuovo concorso, ma che avverrà dopo la stagione estiva. Infine sono tre dirigenti. Abbiamo riproposto alla regione un nuovo organico, un po' per il problema dirigenziale la sostituzione di un pensionamento. L'altra è coprire due posti che sono nefragici. Il direttore del ramo Ferrovia. La seconda assunzione che io ritengo strategicamente fondamentale è di trovare un dirigente di alta specializzazione nel settore informatico. Perché tu appunta all'informatizzazione di tutti i settori.